pensavo di conoscere tutto del museo in cui lavoro un giorno mentre in polverata svuotavo degli armadi ho fatto una scoperta eccezionale in un deposito dimenticato da tempo ho ritrovato un manoscritto firmato giovanni bianchi stupita mi sono chiesta chi è mai questo bianchi di cosa parli il testo e cosa sono quei simboli strani eppure questi simboli io li ho già visti la curiosità mi porta a investigare ma da dove comincio parto dagli archivi che raccolgono i documenti più antichi della città di modena dopo settimane di ricerca lo scoraggiamento è vicino quando improvvisamente dai faldoni a fiore una lettera datata 1819 parla di una donazione di minerali fatta in quell'anno dall'arciduca massimiliano d'asburgo est e della necessità di tradurre in italiano il catalogo in tedesco che accompagna la collezione l'incarico è affidato proprio a giovanni bianchi firmato il rettore paolo ruffini e lui rientro al museo per riguardare il catalogo in tedesco che sorpresa è un catalogo che per ogni singolo campione riporta quel simbolo strano e scopro che sono i simboli usati un tempo dai alchimisti medievali quelli che credevano nella pietra filosofale come elisir di lunga vita il mistero si complica cerco in museo altri indizi sono molto curiosa ecco di nuovo quei simboli su dei cartellini di alcuni campioni ma c'è un numero a fianco confronto simboli numero sui cataloghi sui cartellini incredibile c'è corrispondenza dal numero del cartellino alla pagina del catalogo tradotto dal simbolo alchemico al campione di minerale il puzzle si sta ricomponendo campioni storici del museo hanno preso nuova vita identità e ci raccontano una nuova storia fortuna forse un po ma intanto sono già pronta a ripartire per una nuova spy storia al museo